Qual è la responsabilità di un incarico delicato? C'è necessità di un impegno sicuramente notevole, per cui sento molto questa responsabilità e ho anche molta voglia di cominciare. Ma io conosco il dottor Cattelli praticamente da quando faccio il magistrato, perché eravamo entrambi sostituti al Reggio quando ho cominciato. Parliamo da tanti mesi di questo e so che qui c'è un progetto molto interessante. Lui sta compiendo molti sforzi per rendere l'ufficio di procura il più efficiente possibile, proprio per fronteggiare le situazioni gravissime di criminalità organizzata, soprattutto, ma non solo, che caratterizzano questo territorio. Io so già come lavora, so bene, quindi sono ben contento di essere qui. Sì, anche questa è una giornata importante perché ha giurato il collega De Bernardo, magistrato di grande esperienza, ha 15 anni di servizio, ha fatto indagini importantissime e delicatissime, soprattutto sulla fascia dell'Oionio Reggino. Ci ho tenuto tanto a farlo venire qui, ha creduto in me, io sono stato il suo aggiunto sulla fascia Ionica. Ora aspettiamo solo l'arrivo del collega Paolo Sirleo, che realisticamente dovrebbe arrivare a metà dicembre, anche lui magistrato di esperienza, anche lui 15 anni di servizio, il dottore De Bernardo per oggi andrà sulla fascia tirrenica. Si occuperà in particolare della provincia di Vibo Valencia, assieme alla collega Frustaci e al collega Mancuso. Quindi sarà una bella squadra. Ora ci manca un altro magistrato che dovrebbe arrivare, speriamo, per la prossima primavera. Poi, tra qui a pochi giorni, giurerà il collega Capomolla, che sarà nominato, aggiunto. Manca solo la firma del ministro e poi faremo la richiesta di anticipato possesso. A quel punto, diciamo, entro questo mese si venderanno due posti, perché il collega Vertuccio è stato trasferito al Tribunale di Napoli. A fine mese chiederemo la pubblicazione di questi due posti per averli in primavera. Ma la settimana scorsa, le due, abbiamo assistito al giuramento di sei pubblici ministeri e 12 giudici. Anche quella è stata una giornata importante, oserei dire, storica. In questo diciamo che incominciamo a vedere i risultati di un anno e mesi di lotta. Cioè queste non sono cose che arrivano così, da sole. Sono il frutto di tanti viaggi a Roma, di aver bussato a tante porte ed aver avuto ascolto, credibilità. Io di questo sono contento e non finirò mai di ringraziare tutti, a iniziare dal ministro Orlando, dal capo di gabinetto Merillo, ora la collega Cesqui che ha preso il posto di Merillo, anche lei garbata, efficiente e sensibile. Poi non parliamo del comandante generale dei Carabinieri, che tra pochi giorni sarà qui, verrà a farmi visita. Non parliamo del comandante generale del guardia di finanza, che sono stati veramente vicini e affettuosi già prima che io mi insediasse qui a Catanzaro. E poi anche il capo della polizia, da almeno 5-6 mesi, sta facendo iniezione di dirigenti importanti. Voi avete visto l'immissione del dirigente della squadra mobile di Cosenza, del dirigente della squadra mobile di Vibbo e di Crotone, tre bravissimi funzionari di polizia, come anche il nuovo questore su Cosenza. Ci vogliono ancora degli aggiustamenti sulle forze dell'ordine per migliorare, fare altri piccoli ritocchi. Però ormai la squadra è completa, deve essere solo rodata, migliorata e fatta lavorare al regime. Su quali settori pensa che si potrà ancora meglio concentrare il lavoro della Procura? Ma su tutti i settori io penso che ora abbiamo la forza per poter lavorare dai reati bagatellari con la pubblica amministrazione, reati economici, alle fasce deboli. La cosa che mi ha impressionato qui a Catanzaro è il gran numero di reati di natura sessuale, di violenza nelle famiglie. Una cosa che mi ha impressionato, che a Reggio Calabria non vedevo, non notavo, ma qui a Catanzaro è impressionante. Non passa settimana che non si arrestano 3-4 persone per reati di natura sessuale o di violenza all'interno delle famiglie. Questa è una cosa brutta che ho notato qui venendo a Catanzaro. Su questo adesso infatti ho potenziato questo segmento, questo settore delle fasce deboli mettendo 3 pubblici misteri anziché 2. Poi potenzieremo sicuramente la procura di istituzione antimafia, con l'arrivo di Sir Leo e De Bernardo faremo una bella procura.